Buonasera cucciolini e cucciolini, come state? Allora, è lunedì sera e sto per andare a prendere Vanessa e Anastasia dalla lezione di pop. Poi torneremo a casa e iniziamo la nostra solita routine della sera. Quindi si faranno la doccia, ce n'eranno, si laveranno i denti, si metteranno il pigiama, prepareranno lo zaino, compriamo i diari e andiamo a guardare su un po' di Italia's Got Talent. Ma tutto questo, questa sera, cuccioline e cuccioline, non avverrà nella normale maniera, ma lo scopriamo tra poco. Anzi, scrivetemi nei commenti, secondo voi, come avverrà questa routine serale? Siamo qua cucciolini, sto per andare a prendere Vanessa e Anastasia. Allora, avete pensato a questa routine serale particolare, in cosa potrebbe consistere? Dai, su, scrivetemelo nei commenti, vediamo chi indovina. Ciao Vanessa, sei stanca, sei sudata? Stanca e sudata, oggi hai fatto ginnastica a scuola e pop adesso. E la cucciola? Ciao. Ciao cucciolina, allora ho detto ai nostri cucciolini che stasera faremo una routine serale, ma un pochino diversa dal solito, ma non ho detto a loro come la faremo, perché non lo sapete nemmeno voi. Quindi, adesso andiamo a casa e vi do tutte le istruzioni per iniziare la nostra routine serale. Allora, le istruzioni? Le istruzioni vuol dire che ti dico quello che devi fare, ok? Sei pronta Anastasia? Sì. Bene amore, brava. Siamo arrivate a casa Anastasia, è inutile che giochi, vieni un po' qua. E purtroppo non ti... Che bella, hai colato la barba incinta. Sì, ora vi faccio vedere, è molto bella. Sì amore, dobbiamo... Ha dentro una femmina, si capisce perché... Ma cosa si capisce che ha dentro una femmina? Non ti è guardata. Già. Ah, come sei veloce a ordinare le barbi. Si capisce che ha la femmina, perché gli occhi sono azzurri. Ah, quindi solo le femmine hanno gli occhi azzurri. No, guardate. Oh, una bevè. Mi ha detto che sembra una femmina. Dagli occhi, sì, è vero, hai ragione, ha gli occhi tipo un po' truccati. Allora, sei pronta a scoprire che cosa dovrai fare questa sera durante la tua routine serale? Lo so. Lo sai? Come fai a saperlo? Allora, tu hai fatto... L'ho fatto io? Una zona tutta bella. Sì. E dovevamo fare i metri controlli là dentro. No, mi spiace. Ma è una routine serale. Noi faremo esattamente quello che facciamo tutte le sere. Quindi adesso ritiri le barbi. Dobbiamo andare a farci una doccia. Però... Dobbiamo mangiare con gli occhi che non devono più spattere. Ah, bella anche quella. No? Non è quella. Dai, vieni, vieni che si sta facendo pari. Dobbiamo cenare, dobbiamo prepararci. Prima però di entrare in camera, devi aspettarmi. Ma non c'è la luce. Aspetta, Anastasia. Cosa state facendo? Allora... Sei diventata un attrezzo... Oh, vi fate male? Ma allora... Ma che gioco stupido è? Ti sei fatta male? A me? So, guarda. Anastasia e a me. No, è colpa anche tua che hai accettato di fare questo gioco. Guarda, bambina, per favore. Hai battuto la testa? Contro che cosa? Il muro? No. Hai rotto il muro? Che c'hai la testa dura. Hai rotto tutto il muro, tesora? Ti fa tanto male? Vabbè, tra un po' ti passerà. Dai, venite che vi spiego che cosa dovete fare. Eccoci qua. Oh my gosh. Allora, bambine mie care belle. Tu ti sei già messa la... No, testi, si è soltanto al bambino. Questa routine serale sarà da... Bendate! Yeah! Evviva! Sei entusiasta, sono entusiasta, sono io. Certo, papi. Chi cadrà dalle scale per primo? Vanessa o Anastasia? Anastasia o Vanessa? Così? Esatto, così. Ehi, guardate. Allora, Anastasia, non cominciare. Già ti stavi per spaccare il cranio. Apro e bevo. Benissimo, dunque, ascoltatemi. Ecco, ok. Guardate cosa faccio, sei bravissimo. Anastasia non lo fare. Yeah! Ah, sì, quello lo puoi fare. Allora, vi ho già messo i pigiamini, perché adesso cosa faremo? Dove sei? Oh, che tu cadi dalle scale, vieni con me. Ani, Ani, vane, vane. Anastasia, eri nuda? Oh, ascoltatemi! Fermi, stop! Fermi dove sei? No, mi sa che questa non è stata una buona idea. Dovete, da questo momento, non vi potete più sbendare. Aiuto. Cambiamo, cambiamo challenge? Oh, l'hai beccata, eh. Ma ci vedi tu? Ascoltatemi, uno per voi. Ma cosa sapevo? Vanessa! Vanessa, Vanessa, ti prego, Vanessa. Va bene, il video finisce qua. Sbendatevi, non la faccio più. Voi due non siete a posto, secondo me. Sono diventata una mosca. Anastasia, stop! Dovete ascoltare, sto parlando da sola da tre ore. Vanessa, Anastasia, Vanessa. Anastasia, ti prego. No, che brutta roba. Ma che brutta roba, brutta roba. La brutta roba la vivo io tutti i giorni. Ascoltatemi. Anastasia, mettiti la venda. Anch'io? Sì. Adesso inizia la challenge. Tra tre, due... Ma tu come fai a vedere che lei non la mette bene? Perché guardate. Ma va, non è vero, sono gli occhi della rana che sono storti. Adesso andiamo in bagno e vi dovete fare la doccia. D'accordo? Sì, d'accordo. Vieni, Anni, vieni. A te sembra che hai gli occhi aperti. Che cosa fai con la bottiglia? Perché lei... Metti giù la bottiglia. Voi ci vedete. Tu ci vedi, Vanessa? No. Hai preso la... Anastasia, il muro? Oddio, stavo andando a sbattere contro il muro. Aspetta, Vanè. Tu segui la mia voce. Allora, se qua c'è la porta... Ho capito. Se no possiamo fare uno per volta. Sì, qui qua. Qua. La luce. Accendi la luce. Tenta, non fa bene. Aiuta. Ok. Brava Anastasia. Dai, sì, spegni la luce, non importa. Tu dammi la mano. Vai avanti. Dritta. Ok. Entra. Prego. Fermati, Anastasia. Stop. Oh, dove vai? Stop. Ok, fermatevi. Stop. Così, siete in bagno. Anastasia. Che schifo. Anastasia, smettila. Fermatevi. Adesso non vi posso riprendere, ma vi dovete spogliare. Non vale. E poi vi aiuto ad entrare in doccia. Ok? Spogliare. Pronte? Via. Via. Ma che brava. A bagliarmi dappertutto. Bravissime. Ok, dolcina fatta. Adesso vi dovete prendere le mutandine e poi dovete andare in cameretta a mettere il pigiamino. No, no. Allora non so questa. Questa challenge mi piace tanti, appunto. E io mi piace. In alto, in alto. Su, su. No, 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 no. Bravissima, Vanessa. E Anastasia. Ok, sei nel punto giusto. Che è successo? Ti è caduto l'asciugamano? Ti aiuto poi io, dai. E' stata la mamma. Anastasia. Una ne bastava. Non duecento da far cadere per terra. Ok, presa. Brava, raccoglile. Ma che brava. Riesci anche a raccogliere. Siete più brave con le maschere, con le bende, che senza. Pensa, abbiamo già fatto la doccia. Stiamo già per mettere il pigiamino. Penso che sì. Ma là, sei io pura che tu cadi dalle scale. Vai di qua. Grazie. Attento al muro. Anche tu. Devo scusa, ho spento la luce. Non so se voi vedete. Ani, anni. Dove vai? Dentro la libreria. Che di libreria. è a ben poco, però è una libreria. Bravissime. Ok. Molto bene. Anastasia. Anastasia. Perfetto. Adesso pigiamino. E anche qui devo un attimino interrompere. Ho presa, guarda. Bravissima, Vanessa. L'hai proprio presa. A te non ti posso riprendere perché non posso. Va bene, mettete il pigiamino. Ani, fatti vedere. Benissimo. Adesso devi metterti però il pezzo di sopra. Dai. E ti devi all'esercizio. No, quello è l'asciugamano, amore. Questo. Bravissimissimissima. Credo qua. Hai fatto come il verso della rana. Non so se censurare o no questo pezzo. Ma secondo me è perfetto. Tu hai fatto il verso della rana. Abbassiamo un po' questa benda che secondo me tu ci vedi. Brava, Ani. Hai messo il pigiamino. Un pezzo di sopra. Adesso, mi raccomando, mettili bene i bottoni. Allora, qua c'è uno. Qua c'è uno. Non posso contattare. Tu ci sei quasi. Non ti posso riprendere, Vanessa, perché tu sei nuda. Non hai la canottiera. Anastasia, mi sa che... Non lo so se è storto e giusto. Forse è giusto. Forse. E il tuo rumore è più semplice. Ciao, bravissima. Oh, piano. Dai, Ani. Ci sei? Adesso, bimbe, vi devo andare a preparare la cena. Allora, Anastasia, non è perfetta. La smetti. Sembra un maschiaccio. Anastasia, non è perfetto. Però fa niente. Apprezzo la buona volontà e... va bene così, eh? Come sta là? Ma cosa ridi? Mi sei fatta vedere tu? Tutta rosa. Rosa antica. Beccata. Va bene, vi preparo la cena. Ma cosa stai facendo? Ho lo scivolo. Magico. Vediamo. Cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Ma lo scivolo magico. Questo è uno scivolo magico. Secondo me tu stasera ti fai male. Buongiorno a scuola. Buongiorno a scuola. Buongiorno a scuola. Vabbè. Mi sembrate... A volte mi sembrate un po' fuori di melone. Cioè, veramente... Mi so... Mi sono fuori di limone. Sì, va bene. Allora, adesso vi preparo la cena e voi dovrete bere e mangiare da bendate. Diamoci una mossa perché stasera vedrete Italia's Go Talent da bendati. se non facciamo troppo tardi. Sì, finisco di vedere io la semifinale e ve la racconto. Mi dispiace, mi dispiace. Va bene, la puoi riguardare l'anno stasera. Vendetevi le calze al scivolo da bendate. Cosa cambia se... Tipo, questa qua per la destra lo metto nella sinistra. Ma che ne so? Dai, mamma mia. Ma che dilemma. Non cadere. Ce la fate? Che bella quella rarocchia con gli occhi aperti. Però... Amore, tu sei bellissima sempre. Ma mamma è che io sono bellissima sempre e tu invece sembri la rana con gli occhi aperti. No, in teoria quella rana lì dovrebbe anche chiudergli gli occhi. È infatti, barone. Vero? Stasera quando vai a nanna li chiudiamo. Così l'hai abbassata. Va bene ragazze, io devo andare a preparare la cena. Ci vediamo giù. Anzi no. Dovete scendere le scale con me. Vanessa, ascoltami. Ascoltami, tu rimani lì, eh. Non scendere le scale che cadi. Ti devo aiutare io. Ok, rimani qua che faccio scendere Anastasia. Sperando di non cadere io che cammino all'indietro. Ok? Ok. Ecco. Perché camminare all'indietro sulle scale non è il massimo. Sì, sì. Ok, camminiamo insieme vicini così. Anzi, cammina tu, brava. E io ti tengo la manina. Bravissima. Ma sei bravissima. Conoscete. Guarda il gatto che ti taglia la strada perché non ha capito che già siamo in difficoltà. Ok? Ci sei? Boh. Bravissima amore. Brava. Vanessina. Vanessina, Vanessina. Where are you? Brava, Van. Dai, vieni. Perfetto. Un po' di meditazione. Adesso io mi metto a fianco a te perché sennò cado, se lo so. Dai, Vanessina, dai. No, ok, tieniti al passamano. No, ti tieni al passamano. No, non ti riesco al sole. Madonna, santissima. Sono maessa una principessa e non una cessa. E su quello non abbiamo dubbi. Sei sempre la stessa. Che non sei cessa, ma non che sia tu una principessa. Sei sempre la stessa. Rimani sempre la stessa, sì. Io sono principessa più di te, hai capito. Sì. Hai capito? Se tu sei una principessa, io sono una regina, quindi non so. No, però non fa rima. Ma no, no, non fa rima, ma sarebbe la realtà. Guarda che qua devi girare. Mazza, oh, conosciamo le scale a memoria. Fantastico. Bravissima anche Vanessa. Adesso mettetevi sul divanino. Ah, sei tu? Sì, sono io. E io vi preparo la pasta. Di qua, di qua. Cam, 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 cam. Quindi Anastasia vuoi la pasta o la bistecca? Bistecca. Bistecca? Sì. Va bene. Che cosa guarda di bello? Niente, rilassati. Vediamo se riesco a trovare la Barbie giusta. Ok, vediamo se riesci a trovare la Barbie giusta. Allora, io voglio quella con i capelli di giusta. Va bene, io vi preparo un attimo la pasta. Guarda. Cos'è che stai cercando? La Barbie giusta. Qual è la Barbie giusta? È quella la... Io leggo questa. Tu leggi un libro, fantastico, va bene. Che cos'è? La principessa sul piselle. No. Allora, io non leggi un po'. Aspetta! Ma non è il senso, attavate. Vediamo se ho trovato quella giusta, eh. Vediamo? È quella che io volevo trovare! Ma brava, ma è però... Non devi toglierti la benda. Eh, vai! Qua è con un'altra... Sì, va bene, cucino, ciao. Eccoci qua! È ora di cena. Tu stai già iniziando a mangiare. Buon appetito! Non vi sporcate. Bravissime! Avete fame? È tardino? Ma no, sono le otto e dieci. Otto. Anastasia, mi raccomando, prima di mettere in bocca un altro pezzettino di carne, devi aver terminato la tua, eh. Sì. Terminata? Sì. È buona? È tenera? Ma benissimo, bravissima. Fatti vedere. E tu, amore? Siete bravissime. Non pensavo. Eh, bravissima, ma il Sina che ha mangiato tutta la pasta. Adesso sta vedendo. È finita. Ma hai spiato con la benda? No. È finita, amore, sì. Vuoi un pezzettino di carne che ha lanciato Anastasia? Vuoi un pezzo di pane? Tante. Sì, un secondo che lo devo prendere. Mentre Anastasia cosa sta sgranocchiando? Una ranocchia che mangia una carota? La prossima volta ti dico. È un po' storta, eh, questa benda. Cioè, gli occhi... Ok. Sì, amore, tra poco andiamo, eh. Andiamo a dormire. Adesso ti do un pezzettino di pane, poi andiamo a lavarci le. Ti rilassa la benda, vero? No. Come no? Dai, la messa. Non finiamo in tragedia questa challenge. Guarda che tu cadi nella... Vai a prendere... Alla stadia, amore. È uscito? Vedere. Sì. Ok. Donna. Questa acqua cade stasera, io lo so. Vane. Smettila. Vediamo. Sì, ma è stato un piede, scusa. E te? Buona, è brava. Ok, Vanessa, vediamo se anche tu sei capace. Stai ferma, amore, mentre ti lavi dentro. Non andare in giro. Anzi, vai dove c'è il bidet, che così... Ecco, brava, stai qua. Stai qua. Davali qua. Cosa stai cercando? Il tuo spazzolino. Il tuo spazzolino l'ho messo io dove metto tutti gli spazzolini. Vai a cercarlo. Oddio, mi aiuta? No? No, quello è... È brava. Ma non è il tuo. Non è il tuo. Dove è finito il tuo? Ah, no, il tuo non è qui. Ok, guarda, aspetta, ti do una manina. Eccolo. Però il dentifricio è lì. Aspetta. Bravissima. Anastasia. Vai. Anastasia, sei bravissima. Devo tuttare io. Hai finito di lavarti i denti? Ti laviamo ancora un po', che si lavano per due minuti e non per due secondi. Grazie. Ok, il dentifricio. Aspetta che adesso è accoggiato sopra lo spazzolino. Ani, no, 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 sopra, sopra, sopra. Sì, nel buco. Brava. Mi piace bene? Mostro? Proviamo a vedere. Dove è la cromanda? No, è caduto. l'avevi preso no sopra madonna santa mia ok va bene anche lì è lo step dai Vanessa tua sorella l'ha fatto in un attimo guarda che lo spazzolino è al contrario no adesso no no regina ma dove va quella lì ma dove vai torna indietro torna indietro l'asciugamano non può essere in corridoio come fai a uscire dalla ecco sì proprio l'asciugamano l'hai trovato ma che cavolo allora Anastasia tu ti devi fermare un secondo sediti per terra sediti per terra ok stai seduta lì eh mamma mia che brutta mamma mia allora ancora dio mio allora ti giro la mano nel verso giusto vai ma che cosa togli togli così facciamoli qua non ce la fai dove è qua ma funziona oh preso 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 stop 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 davanti grazie a dio Anastasia ti sei lanciata così non è che ti sei lanciata nel posto giusto va bene dai che andiamo che vado a vedere Italia's Go Talent e ve lo racconto dai brave bimbe bravissimi amore adesso ma Anastasia dorme si è addormentata con la benda Ani Ani ma 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 ti sei addormentata con gli occhi aperti la nocchia no perché ti sei alzata la benda non alzare più la benda tu eh allora bimbe adesso mi guardo un pezzettino di Italia's Go Talent come tutte le sere così concludiamo la nostra routine serale ok oh ragazzi finalmente finalmente il momento più bello di tutte le nostre sere cioè quando guardiamo Italia's Go Talent dai ragazzi che questa è la finale no forse è la semifinale vero? sì semifinale sta iniziando sta iniziando dai 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 vediamo chi c'è ah sì sì ve lo ricordo ve lo ricordo vediamo un po' no no aspetta aspetta eh oddio ok esibizione ragazzi guardate mamma fantastico abbiamo una maschera non possiamo guardare ah avete ragione mi dispiace vabbè ma ve lo racconterò poi aspetta zitta silenzio silenzio no veramente ma che grandissimo stasera secondo me questo qua lo scelgono eh per andare in finale fantastico mi dispiace ragazzi ma vi state perdendo una puntata stupenda ma non possiamo far altro che tenere la benda mitico allora bambine Italia's Go Talent è finito non vi dico chi è il vincitore però ragazzi adesso dobbiamo dare veramente nanna perché domani si va a scuola la nostra routine serale da bendate è terminata qua vi siete divertite? no va dai ma uffa vedo che siete però d'accordo va bene allora domani la rifacciamo e buonanotte a tutti cuccioline cuccioline iscrivetevi al canale lasciate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao ciao